Wella ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qua su Farming Simulator 22, come sempre nella mappa Elm Creek Ragazzi, e come sempre vi vado anche a ricordare che in descrizione potete trovare un link che vi permette di comprare questo e tantissimi altri giochi scontati Allora, stavo dando un'occhiata qui alle barbabietole, non sono ancora pronti, immagino che neanche giro soli Vabbè, comunque sia ragazzi, finalmente nel moddub è uscito il nuovo Landini ragazzi, il nuovo Landini E vorrei comprarlo, di fatti per fare questo ho pensato di vendere questo trattore però, perché comunque voglio dire è sicuramente più vecchio Vorrei fare il cambio, vorrei fare il cambio con i Landini, allora vai allo shop Allora, Landini, 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 trattori medi, quindi ripeto, si trova nel moddub E in descrizione c'è la lista, un link con la lista delle mod che uso Quindi, vabbè, comunque si trova nel moddub, quindi è anche su console naturalmente E crossplay, lo trovate dappertutto Allora, Landini 6L T4i Serious Allora, vediamo un po' di dargli un'occhiata Prezzo base 125.500 euro Di base a 143 cavalli 270 litri di serbatoio 50 km orari massimo Di velocità massima E pesa 7 tonnellate e 3 Allora, qui configurazione C'è l'imbarazzo della scelta Ah, però non c'ho i soldi per comprarlo, vabbè Vabbè, allora, sollevatore anteriore Cioè, nel senso, sollevatore anteriore di base Oppure il peso di base Di varie, diciamo Cioè, da 135 kg, 405 kg e 585 kg Io lo voglio tenere comunque col sollevatore base Così ci posso mettere quello che voglio Poi, vabbè, marche gomme Trelle, Borg Michelin Continental Mitas BKT Che, che, cos'è questo? Wredestein Nokian E insomma, c'è l'imbarazzo della scelta Ok, di base quindi abbiamo le Trelle Borg, mi pare Se non dico neanche volete Poi, configurazione ruote Normale, classico Con pesi alle ruote Pneumatici larghi Oppure Pneumatici larghi più contrappesi Oppure Pneumatici stretti Anche se, addio, la verità Tanto stretti Sì, ok, no, sono stretti, sì Sono stretti, sì Oppure Doppie ruote posteriori Oppure doppie ruote posteriori e anteriori Poi abbiamo Senza parafango O con parafango Aggancio frontale Di tipo Stoll Oppure Quick Oppure Hour Ora poi vediamo questa cosa Configurazione motore Quindi di base 143 cavalli Oppure 163 cavalli Oppure 176 cavalli Io ovviamente lo vorrei prendere col motore Potenziato al massimo Perché preferisco avere trattori più potenti E allora Vediamo un po' Intanto questo è arrivato Io vorrei vendere tutto Tranne la forca Perché quella mi pare che non cambia niente No? Oppure vendiamo tutto Facciamo tutto un acquisto Generalizzato nuovo Facciamo un acquisto completamente nuovo Tanto tutta sta roba è vecchia Allora Vendi Vendi Vai vai Tutto 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 Vendi tutto Vendi tutto Bene Mi servono almeno Un bel po' di soldi Già sono mega indebitato Vabbè lo sapete Che io Vivo di debiti Allora trattore medio Torniamo nel landini Il colore lo tengo blu Mi piace così come è originale Sollevatore anteriore lo tengo Le gomme me le tengo così come sono Mi va bene così Le gomme strette per ora non mi interessa Con parafango Aggancio frontale Di tipo stall Sì Mi va più che bene 1000 euro Mi va bene Motore potenziato al massimo Nulla di molto complicato Targa si può mettere Sinceramente non lo so C'è tipo 1 tipo 2 Tipo 1 tipo 2 E non lo so Ci vorrei scrivere Nick Me riesce Dove cacchio è a Y Nick E poi tanti puntini Perché non si può cancellare niente E dov'è sta targa In teoria doveva apparire qua Ma non c'è Boh Sbaglio qualcosa Posizionamento targa Ok Ah eccola 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 Ora c'è Nick Ci sta Beh in realtà Potrei fare un'altra cosa Ora che ci penso Due punti E mettiamo Nick È molto meglio Così è centrato Così è centrato Purtroppo non hanno pensato a mettere Che so Uno spazio Così è centrato Sia davanti che dietro Boh Ok Quindi Che dire Ricapitolando Sollevatore anteriore Mi va bene La marca gomme Mi va bene Ruote Normale Oh sì Parafango Ok Compra Yes Puoi ritirare al negozio Il tuo nuovo acquisto Ma Dobbiamo pigliare Quindi Di tipo stall E non c'è niente Che qua si chiama stall Ma fregato C'è Hour Vabbè uguale Va alla fine Penso che uno vale l'altro No Ah cambia il tipo Quanti cavalli Ah io ci metto Quello buono Ci mettiamo quello buono Quello che richiede 140 cavalli Tanto io ce li ho Porca miseria 10.000 euro Questo sto coso Però questo è qui 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 Questo è qui Qua Attrezzi caricatore Mi vado a ricomprare La forca Ah pure questa C'è qui 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 L'ho venduta per niente Vabbè meglio nuova Dai Quella era usata Scassata Tutto nuovo Quiki Ci dovrei mettere Quindi C'era mi pare Di quello Quiki Quiki Andiamo a vedere Un attimo Se ci posso Mondare il Quiki Vabbè ovviamente Ve lo devo anche far Vedere Aspettate Giustamente Bisogna anche Guardarlo O no Bisogna pur Guardarlo Da vicino Lo andiamo a vedere Bene Bene Ma che bello Ragazzuoli Allora Adesso guardiamo Gli interni Intanto che stiamo Qua Perché ho paura Delle vacche urlatrici Io Allora Diamo una Buona occhiatina All'interno Abbiamo anche Il tettuccio Per guardare Un po' fuori 19 gradi Fa un po' freschino Per me A me piace Di più Allora Landini Andiamo Vediamo un po' Ci metto Quiki Sperando che non mi costa Vabbè Che mi deve costare Vediamo un po' Configura Qui 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 che Devo spendere 1.500 Porca miseria Vabbè Perché è diverso L'aggancio È più alto Se no poi magari Ci sta strano Ok Ci abbiamo Il trattore Nuovo Mazzane È un po' Troppo grosso Beh Ma ci sta Dai Ci sta Se ci sta Ci sta No Allora Portiamoli in farm Quindi abbiamo venduto Un trattore Che ormai Aveva quasi 40 ore Adesso ne abbiamo Uno nuovo di zecca Ci abbiamo Un bellissimo Landini Quindi Meglio di così Che c'è più Da fare Vabbè Solite cose Dobbiamo lavorare I campi Tante solite cose Potrei fargli fare Qualche lavoretto A questo trattore Cosa c'è da lavorare C'è da Trebbiare Potrei utilizzarlo Lì Potrei utilizzarlo Un po' lì Andiamo a prendere Allora L'aratro C'abbiamo il terreno Quello Che purtroppo È andato a male No Lì dove Lì dove Si è appassito Tutto Insomma Vabbè Spegniamo le luci Che sono le 10 del mattino Non c'è più bisogno Direi che Molliamo il caricatore Frontale Però perché Mi dà fastidio È bello Ma È molto grande Lo metto qua Per ora Quando serve So che è qua Allora Il peso Ce n'è uno Qua Ma purtroppo È girato male Vediamo se riesco In qualche modo Qual è l'atomo È il lato giusto Quale cavolo è Mi pare che è questo È il lato giusto A posto Ci abbiamo anche Un peso E allora Andiamo un po' A lavorare Quindi quel povero Terreno Che purtroppo Ho dimenticato Di lavorare Allora Abbassa No Non il peso Però Questo Ok No problem Facilissimo Ce la fa Tranquillamente Vabbè che tanto Mi pare che Questa ratro Richiedeva Sui 100 cavalli Qualcosa di simile A posto Il treno Non passa Vero Ho paura Del treno Bene Ma poi vediamo Cosa seminare Qua A proposito In teoria Dovrei aver finito Di seminare Il terreno Che era 54 Non mi ricordo No anzi Forse che non abbiamo Ancora finito Perfetto Mettiamo l'operaio Vediamo un po' Come se la cava E beh Come se la deve cavare Meglio di me Di sicuro A posto Almeno lui sa andare dritto Io mica tanto Diamo un'occhiata Allora Questo da qua Lo dobbiamo togliere Perché Perché poi darà fastidio A Landini Quando arriverà Per di qua Quando arriverà Di qui Ci devo mettere La raccoglipietre E poi con calma E devo vedere Che cosa sta a fare Ma mi pare Che ha finito Quello che semina Qui abbiamo Barbabietole Girasoli Quasi pronti Però stavolta È vero C'ho anche l'uva Non la devo dimenticare Come ho fatto Con la colza C'è anche quello Allora andiamo Andiamo un attimo A dare una lavata A questo veicolo Che da un po' Che non lo lavo Allora prima di avviare La partita Ho notato un'altra cosa Restituiamo Cioè prima di registrare Ho notato che C'ho ancora da vendere Qualche torta Ora andiamo a controllare Ma più che altro Devo vedere C'ho da vedere Anche un'altra cosa Come si chiama Tante cose Sì devo vedere Cosa altro c'è Che potrei esaminare Potrei esaminare Allora frumento Non l'ho ancora fatto Dovrei Perché mi pare Che non ne abbiamo Abbiamo orzo Tanto Almeno due terreni A frumento Mi sa che li dobbiamo fare Ecco di fatti Qua ci stanno Ancora le torte Da vendere Poi te ne torni In farm Ok Buono Hai finito Qua Ottimo Allora a me Serve mettere Un po' di frumento Perché per fare i semi No Per fare i semi Abbiamo bisogno Di tante altre cose E dove le vado a mettere Quale terreno Beh Uguale Uno vale l'altro No Non qua Perché ancora Stiamo lavorando Il terreno Il terreno 12 Allora Mi serve Un trattore E in teoria Sta tornando E qua E con questo Andiamo poi A Oppure Ce la può fare Questa raccogliere Le pietre Dovrei cambiargli Le gomme Vorrei provare Configura Le gomme Devo metterle Normali Pneumatici Standard Il peso È fisso Vediamo se questo Ce la fa Accoglie le pietre Ragazzi Che anche lui Mi piace tanto Come trattore Ah ma Ah ma la targanicchia Me l'ha messa In tutti i trattori Io pensavo Che valeva solo Per quel trattore Non per tutti Quindi anche qua C'è la targa No non c'è la targa Proprio qua Vabbè Boh C'è la targa Pure qua Nicche Allora Ah è tornato Ok Vabbè io voglio Fare la prova Comunque Voglio vedere se ce la fa Vediamo un po' Se non ce la fa Pigliamo il landini Tanto il landini Ormai ha quasi finito Giusto per Non stare fermo Vediamo Beh ce la fa Tranquillamente Dai che lì Se chi fa 15 km orari Mica male Non so Qual è la velocità Massima Con il raccogli Pietre Ma 15 km Orari Non mi posso Proprio lamentare Ci vorrei Tanto mettere L'operaio Ma tanto lo so Che quello Torna indietro Dove è già passato Fa un po' De fatica Però Un po' Di fatica La fa Vabbè visto che Il landini Ha quasi finito Facciamo comunque Il cambio Con il landini Dai Però questo qui Liseki Potrebbe essere Buono Per lavorare Qua Per lavorare Tra le fila Dell'uva Ci entra Ci entra Oddio Guardate la camera Ci entra Tranquillamente Qua dentro Qua dentro Liseki Ci entra Benissimo Lo potrei Anche utilizzare Per lavorare L'uva Ci sta Proprio Bene Allora Per ora Lo parcheggio Qua Vediamo un po' Allora La situazione Tu sei tornato E mi pare Che non c'è Niente Da vendere Mi pare Che non c'era Altro Da vendere A parte La lattuga Ma non è periodo Questo Lo lasciamo Per ora Pararcheggiato Qua dentro Benissimo Qua ho già Passato Il letame Insomma Il concime Frumento Già Selezionato Andiamo Ad utilizzare La nostra Nuova Mega Seminatrice Anche Allora Abbassa E Accendi La voglia Che ci vuole Frumento E no Si Frumento A posto Ci metto L'operaio Che l'operaio Qua Non ha problemi A lavorarmi Questo terreno Io invece Devo prendere I landini E devo andare A raccogliere Le pietre E perché Se no Chi lo fa Che le pietre Ogni volta Sono un problema Allora Siamo abbastanza Lontani Dalle vacche Spero così Di non avere Problemi Che mi urlano Tipo nelle orecchie Allora Questo poi Lo vengo a prendere E lo togliamo Basta che non Si è ribalta Allora Andiamo ad agganciare Ok La velocità massima Anche qua È di 15 km orari Quindi Il piccolo E i secchi Ce la fa pure A posto Peccato Che abbiamo buttato La colza Veramente Peccato 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 E vabbè Quante cavolo Di pietre 250 kg Per ogni passata Un mucchio Di pietre E anche di più Treno Non c'è Ok È un problema Ogni volta Con sto binario Bene Quindi Ci abbiamo Un terreno A colza E un terreno A frumento Ora poi I terreni piccoli Li seminiamo Con calma Perché non devo Dimenticarmi L'uva Ovviamente E non mi devo Neanche dimenticare Girasoli E girasoli E barbabietole Che sono lì davanti Tavolta Non devo Sbagliare Vediamo di andare Quanto più dritti Possibile Andiamo a togliere Bene le pietre Penso di sì Mazza quanto fumo Che esce Allora 68% Tra un po' Ci avrò già il pieno Ma ci metto No L'operaio No Volevo metterci L'operaio Per farvi vedere Meglio il trattore Ma Dato che l'operaio Poi torna indietro Dove non deve Da notare Comunque I cavi Che si stanno Sporcando I cavi Si stanno A sporcare Le ruote Pure Allora Mi sa Che questo È l'ultimo Giro E poi E poi devo andare A scaricare Abbiamo già Il pieno Del treno Ancora Non si è visto Chissà Do sta Boh Boh Prima o poi Passerà Allora Mi fa fare Un altro giro Di ritorno Bene Bene E usiamo In Landini In Landini Per lavorare Per lavorare I campi Per fare Quello che c'è Da fare Allora Retro potente come a questo a post c'è da passare il rullo concime il solito cosa ovviamente a posto benissimo va bene ragazzi ahimè vedo che il tempo pure stavolta è volato duvolo proprio decisamente dobbiamo concludere quindi abbiamo preso oggi un nuovo trattore il landini meglio di così marchio italiano voglio dire ma meglio di così veramente dai ma che bello perfetto quindi ragazzi ahimè devo concludere spero che il gameplay vi sia piaciuto vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate un link che vi permette di comprare questi e tanti altri giochi scontati vi ricordo che in descrizione c'è un link con la lista delle mod che utilizzo in questa serie e ragazzuoli ci becchiamo quindi presto e niente ciao alla prossima ciao ciao